Io sono TheMark e in questo video andremo a sfidare il nostro amico Kendal con tutti quanti i suoi nuovi Pokémon spaziali. Lascia un mi piace, attiva tutte le notifiche tramite la campanella e se sei nuovo iscriviti al mio canale. Cambiacini, nello scorso episodio abbiamo catturato tutti quanti questi Pokémon arcobaleno nella loro versione Rainbow, che sono fantastici. E sono tutti quanti all'interno di questo box, vi avevo chiesto se volevate vederli tutti a livello 100. Per ora è un po' difficile, perché come notate è escluso il Cresselia che è a livello 96 e il nostro OhOh, che è stato il primo Pokémon Rainbow che abbiamo catturato. Minotic è a livello 80, WeWile al 54, un po' basso, Rapidash al 78 e il nostro Croudant è all'82. Non sono tanto lontani in realtà per giro a livello 100, quindi in questo episodio vorrei portare direttamente con me. Se abbiamo una sfida importante da fare ragazzi, cerchiamo magari di ricreare il nostro team ufficiale. Però, dato che vi è piaciuta tanto l'idea, oggi li porteremo con noi. Ovviamente andiamo a curare tutto quanto il team, perché non so come è messo. E in più, dato che l'idea base vi piaceva, andiamo anche a potenziarli. Dato che comunque, ok che non sono Pokémon leggendari, ma già a livelli alti possono imparare delle mosse veramente tanto importanti, come questo Rapidash. Anche Croudant può imparare delle mosse molto potenti. Secondo me, ragazzi, questo potrebbe diventare un team molto interessante. Certo, non incredibile, ma già a livello 100 potrebbe essere super importante. Ah, e scrivetemi nei commenti con l'hashtag sonouncampione per essere salutati. Quale sarà la prossima versione di Pokémon che dobbiamo prendere per intero? Cioè, magari quella spaziale, quella maledetta? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Secondo me, WeWile lo posso cambiare con Kecleon, eh? Che magari a livello 70 è un po' più forte. E puoi imparare anche mosse interessanti, ragazzi, perché abbiamo mosse di tipo Buio, di tipo Spettro, di tipo Psico. È veramente tanto forte questo Kecleon, per niente male. Ok, vediamo però cosa ci aspetta. Uuuuh, Marshadow Boss Altmate. Ecco, ci aspetta già una prima battaglia molto molto carina, anche se oggi andremo nell'ultradimensione. E per farmare un po' di livelli, direi che questo Marshadow potrebbe essere tanto interessante. Perché noi con Moonblast siamo super efficaci, ma lui ci ha già tolto la metà della vita. Quindi dovrei provare a creare questa battaglia con Oh Oh, che è l'unico al 100. Quindi per favore, signor Marshadow, vado a vincere questa battaglia. No, eh, no, non si può. Eh, mi sa che si è devastato. Sì, ci devasta, ci devasta. Niente, non posso farci nulla. Non dite a nessuno che sto prendendo il mio Eternatus. È proprio a nessuno. Devo curare il mio team, se no non livellano. È bello ostico questo Marshadow, perché nonostante noi stiamo facendo una mossa che è super efficace come Shadow Ball. Quindi una mossa tipo Spettro contro di lui. Ci stiamo mettendo tanto, e anzi, mi ha paralizzato anche Eternatus. Però colpo a critico e l'abbiamo portata a casa. Ci ha droppato una Marshadow, che noi purtroppo non possiamo utilizzare, perché non abbiamo un Marshadow. Però vabbè, essendo che il mio team è molto, molto scarso per questa battaglia, lasciamolo giù, dai, fa niente. Però riprendiamo la squadra un po' mista degli scorsi episodi. E andiamo anche ad analizzare questo, che è l'ultimo Pokémon che abbiamo catturato, Suicune, nella sua versione maledetta. Perché negli scorsi giorni, nello scorso episodio, abbiamo catturato l'ultimo Pokémon leggendario maledetto. Ed è questo Suicune, uno dei tre cani leggendari, che è in questa versione, tutta quanta viola maledetta, che è bellissimo ed è super veloce. E infatti le statistiche, guardate, la velocità è quella che spicca più di tutti. Questo è un gran Pokémon campioncini, in qualche squadra bella, particolare, potrebbe essere interessante. Quindi nei commenti, costruite la vostra squadra e lasciate anche un mi piace. Però Suicune oggi ci abbandona e prendiamo il nostro Tyranitar. Curiamo il nostro team, che porteremo con noi oggi in battaglia. Che sembra più o meno interessante, io dropperei via gli oggetti che non ci sono tanto utili. Il Lustru Sorb lo mettiamo da questa parte. Ho finito l'ultra ball per colpa di Suicune nello scorso episodio, quindi direi che vado a craftarmi un po'. Direi che queste 19 ci possono bastare, almeno andiamo a 36 e possono essere utili per qualche cattura. E nei piani più alti abbiamo anche delle caramelle rare, perché così possiamo portare a livello 100 il nostro Charizard Shadow. Che è un sogno che abbiamo un po' tutti quanti, perché questa versione qui potrebbe essere un po' più potente di quello Shiny che abbiamo con noi. Ora, lui è a livello 95, quindi ci servono 5 caramelle rare per portarlo a livello 100 e andare ad analizzare le sue statistiche. Poi promesso, andiamo nell'ultra dimensione, perché voglio sfidare qualche dungeon oggi. E questa versione è la più bella di Charizard, vediamo quanto è forte, perché ha tutte le statistiche pari. Ha direi che ha più un po' bassi, ma ha una grandissima velocità. Molto interessante questo dato. Abbiamo questa Charizard ITX per noi, quindi possiamo dargliela direttamente. Almeno abbiamo anche una mega pietra da dare nel caso del bisogno di qualche battaglia. Direi che siamo a posto, campioncini. Possiamo andare direttamente all'interno dell'ultra dimensione. Quindi premiamo questo tastino e controlliamo la nostra mappa, perché abbiamo delle zone che sono scurite un po', ragazzi. Come per esempio questa, che si è scurita un po' troppo. Ok. Qua anche, nella zona del vulcano invece, tutto quanto è illuminato, tutto quanto è illuminato, solitamente le zone scure sono zone che ricaricano nuove sfide. Di conseguenza noi ci possiamo tippare un pochino in giro per capire se appunto abbiamo qualcosa di nuovo. Ma c'è anche una zona ghiacciata nell'ultra dimensione. Bellissimo, questa non lo sapevo. Il fatto è che oltre a quel Glacione, che probabilmente è un livello 100, non ho ancora trovato nulla di interessante qua in giro. Quindi mi sa che mi sposto. Delle possiamo andare? Qua dove c'era questa palestrona gigante. Aiuto. Aia, che succede? Va bene, mi sono tippato direttamente dentro a un coso e un ride, ma mi pare esagerato prendere il danno. Uh! Ma aspetta, a parte che questo Porygon qua è un Porygon speciale. Che figo! Però, fermi, fermi, a te ti catturerò un attimino più tardi. Ma, fermi, perché mi sa che mi sono tippato in una zona dove era una palestra, può essere, o dove avevamo catturato prima Pokémon spaziale. Che però ha tutti quanti, quattro ride carichi. Quindi potenzialmente potrebbe essere una nuova sfida. Sono caduto in una caverna, ottimo. Mai cadere nelle caverne d'ultra dimensione. Però risaliamo con il nostro Charizard, perché qua i ride si sono riattivati. Quindi potenzialmente potrebbe essere una nuova sfida. Però, per chi? Vediamo un attimino. È una sfida di Kendal! Boss Ultimate! All'interno di un'ultra dimensione, però nella zona spaziale. Oh, calma, calma, calma. Secondo me, ragazzi, potrebbe essere Kendal nella sua versione spaziale. Di conseguenza sfidiamo tutti quanti i ride. Eliminiamoli e andiamo poi a sfidare Kendal. Sono super curioso. Perché per ogni ride, per ogni sfida che abbiamo, soprattutto con i youtuber all'interno di questo mondo, ci genera nuovi dungeon per il proseguimento della serie. Quindi è importantissimo abbatterli ed eliminarli. Calma, eliminiamo Reshiram. Il problema è che qua siamo rimasti in tre. Dannazione per abbatterlo. E abbiamo eliminato Reshiram, tecnicamente. Ottimo. Primo ride andato. Secondo ride, palchia. Qua posso utilizzare sempre cagliogrie. E andando i thunder siamo super efficaci. Noi dobbiamo per forza abbatterli, perché sennò non possiamo fare la sfida di Kendal. Che comunque è anche il motivo perché siamo qua. Quindi dobbiamo per forza vincere. Il primo è che siamo tre, di cui uno è praticamente abbattuto contro uno, che sembra super potente. Ma siamo riusciti comunque ad abbatterlo, tecnicamente. Io non capisco se lo stiamo abbattendo o meno, ma i ride sono strani ultimamente nella Pixelmon. Terzo ride, zera ora. Uh, 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 Groudon. Che con Earthquake ci siamo fatti sentire per bene. Prima che avevamo abbattuto anche Cleffery, che è a livello 70. Non male. Sembra avere anche meno scudo. Molto bene come cosa. E mi sa che l'abbiamo abbattuto. Ottimo. Il terzo ride è andato. C'è da capire il quarto ora cosa contiene. Se un altro leggendario, che non comprendo, cos'è? Ah, dovrebbe essere... Non mi viene il nome? È Magherna? No, non è Magherna. Non mi viene il nome, dannazione a un vuoto. È Dienzi. E ragazzi, nel prossimo episodio. Ci sarà una grande, grande, grande novità. Ma non voglio dirvi troppo. Mi raccomando, aspettatevelo, perché sarà tanto interessante. Stiamo tirando troppo per lunghe. Siamo al turno 8, dannazione ancora al 20%. Manco fosse un Mewtwo, poi, dico. Oh, scudo abbattuto. Oh, proprio all'ultimo turno. Turno 10. Meno male. Perfetto. Ora siamo pronti, tecnicamente. Devo aspettare che la mia squadra si curi per sfidare Kendall Boss Ultimate. E io sono tanto curioso, perché non so che Pokémon può avere questo allenatore. Soprattutto quali versioni? Perché credo che siano spaziali. Direi che possiamo partire con Charizard e Kaiogre. Per niente male. Lui ha... Guardi War nella sua versione spaziale. Non ho letto cosa c'era nel messaggio. Però qua possiamo leggere. Sto cercando qualcuno da sfidare per la mia nuova squadra spaziale. Proviamo. Ebbene, anche io sono qua per testare questa mia nuova squadra. Ora, vado di Flarebeats contro Gardevoir e Thunder contro Arceus. Un po' di danni l'abbiamo fatto e abbiamo paralizzato Arceus, ma non abbiamo colpito Gardevoir. A questo punto vado di Dragon Claw. Almeno un po' di danni lo facciamo in più. E poi vado di Thunder anche su Gardevoir. Anche se il mio Charizard è stato abbattuto completamente. Gardevoir si è ricurato anche la vita. Ma ora metti in campo Eternatus, che sarà super efficace. Con questa sua mossa veleno. Ora, c'è anche da colpire Arceus, ragazzi. Io quasi quasi vado di Thunder ancora contro Arceus. Kayogre ha preso un bel po' di danno. Anche il suo Gardevoir ha preso tanto danno. E anche Arceus si è messo molto, molto male. Sarà una battaglia un po' lunghina però, ragazzi. Perché se poi si curano anche... Eh, dannazione a te Gardevoir. Tanto ho due mosse che sono super efficaci contro di lui. Quindi cerchiamo di abbattere questo Arceus. Ma direi, ricolpisco Gardevoir e ricuro anche il mio Kayogre. Ci serve un doppio attacco direttamente contro Gardevoir. Ok, così sì che funziona molto bene. Entrambi paralizzati con pochissima vita. Gardevoir è andato e vediamo se anche Arceus... Anche Arceus è andato. Arceus, Arceus, chiamatelo come volete. Però l'importante è abbattere Kendal all'interno della Pixelmon. Perché sapete come funziona questa serie. Ogni dungeon di ogni youtuber sblocca nuove versioni di Pokémon nel proseguo di questo mondo. Quindi dobbiamo per forza vincere. E ora giochiamocela per bene, campioncini. Quindi Shadow Ball su Umbreon e Thunder contro Crobat. Ti prego, Kayogre, non abbandonarci, per favore. Ah, Kayogre è abbattuto. Dynamics Kennel contro Umbreon e contro Crobat. Abbiamo Stone Edge che è super efficace. Uh, ci hanno avvelenato Tyranitar, però, ragazzi. Adesso dobbiamo fare tanto danno anche noi. Se attaccassimo, dannazione, non abbiamo attaccato. Facciamo così. Curo il mio Kayogre. E riprovo Stone Edge su Crobat. Vediamo se questa volta facciamo tanto danno. Comunque ha dei Pokémon clamorosi questa versione di Kendal. Umbreon è fantastico, ma anche Crobat non scherza. Ma l'abbiamo quasi shottato. Finalmente l'abbiamo colpito. Vado di Venoshock su Umbreon e un altro colpo sul Crobat. Almeno uno lo battiamo e sono tre nel loro team distrutti. E il mio Tyranitar ci abbandonerà insieme a questo Crobat. Per colpa del Veneno, probabilmente. Io quasi quasi metto in campo Groudon. Vediamo loro cosa mettono in campo. Ninetales. Avrei dovuto mettere in campo un altro Pokémon. Però, però, però possiamo far tanto danno a questo Ninetales. Non lo metto in dubbio. Groudon sta prendendo tantissimo danno. Beh, io ricuro il mio Tyranitar. Groudon ci abbandona, ma non Eternatus. Mette in campo Kyogre. Che con Surf può fare un bel po' di problemi a entrambi questi Pokémon avversari. Vediamo, Ninetales ha battuto Umbreon. Anche Umbreon dovrebbe avere solo un Pokémon rimanente. E infatti è Gallade. Ragazzi, abbiamo gestito questa battaglia in una maniera clamorosa. Vediamo se riusciamo ad abbatterlo senza perdere uno tra Eternatus e Kyogre. Credo proprio di sì, campioncini. Quindi vediamo. Sconfitto Kendal. Infatti è sparito qua davanti. Non ha più Pokémon selezionabile. Ci ha dato un milione e tantissime Ultra Ball. Ok, ragazzi. Ci ha dato anche tanti, tanti, tanti potenziamenti. Come notate, tantissime Caramelle X, P, K, N, X, L. Queste ci serviranno per il Team Rainbow. Per portare tutti quanti a livello 100. Infatti, guardate quanti ne abbiamo. Abbiamo 14 Caramelle X, P, K, N, X, L. Che vuol dire un livello a Caramelle X, P, K, N, X, L. E anche 5 Caramelle rare in tutto. Abbiamo 19 livelli per i Pokémon Rainbow. Molto, molto, molto bene. Ma chissà cosa abbiamo sbloccato con questa sfida. Noi ci possiamo fermare qua, campioncini. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!